le stelle di azus benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di azus l'oroscopo di sabato 11 settembre ariete l'amore continua ad essere fonte di emozioni intense l'estate ha portato quelle novità che molti di voi stavano aspettando da tempo toro la luna si scontra con urano transito che ha la capacità di rendervi nervosi troppo precipitosi in tutto ciò che farete riposate di più gemelli una giornata impegnativa in cui sarete costretti a bruciare molte energie per stare dietro agli impegni professionali poi in serata accuserete stanchezza cancro la giornata parte bene con la luna positiva utile soprattutto sul lavoro vi rende geniali e con una grande capacità di persuasione leone la luna di oggi vi rende nervosi saturno continua ad avvelenare l'ambiente professionale in questo momento non siete in grado di giudicare con lucidità vergine nella vostra vita mancano ancora le certezze ma quelle del resto è difficile ottenerle iniziano però ad esserci delle novità importanti a livello professionale bilancia la luna in avvio di giornata vi rende distratti attenti a non dimenticare qualcosa di importante controllate la posta e tenete a portata di mano il telefono scorpione si sta chiudendo una settimana che ha portato novità importanti nel cielo il sole amico offrendovi belle occasioni di rilancio sagittario giornata non proprio ideale la luna complica i rapporti con il partner marte rende difficile il dialogo sarete nervosi per gran parte della giornata capricorno attenti a non fare discorsi avventati sul lavoro marte e la luna potrebbero rendervi davvero spregiudicati incapaci di valutare un pericolo acquario sarà il caso di tenere sotto controllo le spese marte e sole in vergine vi rendono un po troppo generosi con voi stessi e con gli altri vesci ci sono delle belle novità all'orizzonte specie per il lavoro la luna può portare delle notizie inattese mercurio può farvi guadagnare e con l'oroscopo di oggi è tutto le stelle di azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su facebook alla pagina oroscopo di azus